Ciao e bentornati su Fage Network, io sono Valerio Novara. Se Parasite non avessi avuto il successo che ha riscosso con l'Oscar e tutte le buone recensioni ricevute per questo film, probabilmente non staremmo forse qui a parlare di Squid Game come la serie del momento e il grandissimo successo che sta avendo in tutto il mondo. Nonostante sia una serie sottotitolata e in lingua coreana ancora, cioè in lingua coreana sottotitolata in italiano. Oggi vi voglio parlare di Squid Game che è la serie Netflix del momento e del grandissimo successo che c'è dietro a Squid Game, analizzando insieme a voi anche un po' quali sono i punti di forza e le debolezze perché comunque ci sono alcune cose che mi hanno lasciato un po' perplesso di questa serie di V e che volevo approfondire proprio in questo video in cui non faremo spoiler, quindi state tranquilli per chi non ha visto la serie, non riveleremo nulla circa il finale e anche le vicissitudini dei vari protagonisti e quindi della trama. Squid Game. A me ha ricordato molto un mix fra Sole Enigmista, Hunger Games e La Casa di Carta. La Casa di Carta che era stata fino adesso la serie più vista su Netflix. Diciamo, i capi di Netflix si aspettano che Squid Game possa addirittura superare La Casa di Carta a livello di popolarità nel mondo. È una serie che è ancora disponibile solo sottotitolata e questo già la dice lunga sul grande successo che sta avendo. In pratica i produttori non hanno avuto nemmeno il tempo, anzi Netflix non ha avuto nemmeno il tempo di farla sottotitolare che la serie ha avuto fin da subito un grande successo in Patria e poi si è, diciamo, espansa anche negli altri continenti. Quindi c'è stata anche una popolarità immediata che nessuno si aspettava all'inizio. Pensate che il regista di Squid Game aveva proposto questo lavoro ad altri produttori, quindi case cinematografiche. All'inizio doveva essere un film, Squid Game. Per dieci anni il progetto è stato rifiutato da un po' tutti e lui aveva quasi perso le speranze. Il motivo era perché fosse troppo violenta e perché non avesse dei, diciamo, tratti educativi e per questo era stata scartata diverse volte finché Netflix ha deciso comunque di puntarci. E i risultati stanno pian piano arrivando anche perché anche qui in Italia se ne parla sempre di più. Sui social, come vedete, cominciano a comparire dei meme. Ahimè, io non l'avevo ancora finita la settimana scorsa. Mio fratello mi manda su WhatsApp un meme che riguardava proprio la spoilerata del secolo su Squid Game. Quindi ho un po' rusicato perché poi ho detto, ma pensate come va a finire. E diciamo, poi lo vedrete anche se gironzolate sui social, su Instagram, su Facebook, quanto quanto girino questi meme e quindi quanto ci sia l'alert, lo spoiler alert dietro l'angolo. Dicevamo, il regista ha preso spunto da un episodio della sua vita che gli è capitato quando era piccolo e viveva con la mamma e la nonna e talmente se la passavano male, non avevano i soldi che lui dovette vendere il computer portatile per 500 dollari. E proprio sui soldi, sul concetto di capitalismo, si basa questa serie TV che se dovessimo definire il genere, un genere distopico, horror, chi me l'ha proposta i primi giorni ma anche detto splatter perché se vogliamo è anche quel genere lì. Allora diciamo che vi dico brevemente come inizia. La prima puntata inizia con questo protagonista, questo ragazzo di una quarantina d'anni che ha molti debiti, ha il vizio delle scommesse, il vizio dei cavalli in particolare, quindi una persona che non se la passa bene economicamente e che cerca di guadagnarsi da vivere con le scommesse. Addirittura, diciamo, nelle prime puntate questo personaggio passa un po' da parassita della società e quindi si ricollega molto al discorso di Parasite, di Bongiuno, di queste persone che cercano il soldo facile e che quindi poi cercano in tutti i modi, lui addirittura li prendeva la madre, si vede che non era sicuramente un esempio nei primi minuti della serie. Una serie di persone che vengono adescate da un tizio che gironzola le fermate della metropolitana, le fermate alle stazioni e che propone loro di giocare a un gioco molto famoso in Corea, dopo il quale se avessero vinto quella partita lui gli avrebbe dato dei soldi in contanti. Lui si ritrova a giocare a questo gioco finché non vince e vince questi soldi dopo aver ricevuto una serie di schiaffi per aver perso le partite precedenti. Insomma, una serie di persone che se la passano male con tantissimi debiti vengono adescate, anzi, gli si propone di partecipare a sei giochi semplicissimi che fanno tipicamente i bambini, all'inizio loro non sanno a che tipo di giochi devono giocare, per vincere un cospicuo premio in contanti del valore in euro di più o meno 34 milioni, stavo facendo il conto, in 46 miliardi di won, più o meno, corrispondono a 34 milioni di euro. insomma, tutte queste persone quindi vengono radunate e quindi portate, vengono prese da questo pulmino, da questa specie di taxi e vengono bendate e sedate per essere portate in un luogo misterioso, perlomeno all'inizio un luogo isolato misterioso, dove vengono date ognuno delle tute con dei numeri, quindi ognuno viene numerato, etichettato e vengono fatti raggruppati in questo padiglione in cui poi gli si spiegano delle regole. Chi c'è, diciamo, al comando di questi giochi ci sono delle persone mascherate, i loro vestiti mi hanno ricordato tantissimo quelli dei ladri della casa di carta, perché sono vestiti rossi, poi con la maschera, nessuno è riconoscibile, nemmeno di questi tizi mascherati e armati che devono far rispettare le regole. C'è da dire che le persone che hanno accettato di partecipare a questi giochi lo hanno fatto volontariamente, nessuno li ha costretti. Anzi, nella prima puntata si vede proprio che è stata una loro scelta di ricarsi lì e accettare di giocare a questa serie di giochi. Insomma, chi vince tutti e sei i giochi e quindi non viene eliminato, perché poi si capirà nel corso delle puntate che l'eliminazione comporta anche la perdita della vita, chi riuscirà ad arrivare vivo al termine del sesto gioco vincerà questo premio in contanti. Al di là della trama che vi ho fatto in breve, poi vi consiglio comunque di vederlo, le puntate sono da più o meno 45 minuti, un'ora, tranne la penultima che dura mezz'ora e qui secondo me potevano anche evitarlo, perché la penultima puntata, sono nove puntate, la penultima, l'ottava dura mezz'ora, l'ultima dura un'ora, ma secondo me è anche troppo lenta ed è uno dei punti un po' negativi che devo dare a questa serie, che mi è piaciuta molto, ma si perde un po' nel finale perché l'ho ritenuto un po' lento e il voler spiegare tutto nell'ultima mezz'ora, 20 minuti, forse è stato un po' riduttivo, nel senso che si poteva anche spiegare meglio o facendo durare un'ora anche la penultima puntata, forse sarebbe stato più opportuno e poi magari spiegare e rispondere a tutte le domande che rimangono in sospeso perché comunque sia, man mano vengono svelate cose durante la serie, è una grande novità nel senso che comunque sia, è violento, sicuramente è una serie violenta, molti dicono che non è educativa, però è pure vero che l'intrattenimento tante volte deve essere comunque fine a quello, cioè intrattenere nel senso che ok sì, ma nemmeno è una casa di carta educativa, anzi nel senso mi auguro che nessuno vada a zecca del Stato a cercare di derubare dei lingotti d'oro, detto ciò sicuramente è un genere particolare, è un genere in cui c'è una violenza, c'è una violenza e che fa riflettere su alcune cose della vita, come ho detto il capitalismo, i soldi e come ci si può ridurre per rincordire il guadagno facile. Il finale come dicevo ma un po' deluso e forse non è stato affrontato bene, potevano affrontare meglio il chi e perché, chi c'è dietro, quindi chi poi ha inventato questa serie di giochi e il motivo soprattutto, potevano approfondirlo sicuramente meglio. Ho apprezzato questa serie, sono convinto che ci sarà una seconda stagione, anche perché poi lo vedrete alla fine dell'ultima puntata, si capisce che senza dubbio ci sarà una seconda stagione e quindi nuovi giochi per i futuri concorrenti. Credo che Netflix a breve rilascerà anche la serie doppiata in italiano, quindi state tranquilli, se volete iniziarla direttamente in italiano potete farlo, altrimenti vi consiglio comunque di vederla in coreano. Detto ciò lasciatemi i vostri commenti, ditemi cosa ne pensate, se siete d'accordo sul finale, se vi ha lasciato un po' perplessi come a me, ma a livello di recitazione, fotografia, di colori mi è piaciuto molto, anche perché si dice che i coreani recitino in modo... leggevo su dei gruppi Facebook, non mi piace come recitano i coreani. I coreani hanno un modo tutto loro per me di recitare, è un modo diverso, nel senso che c'è molta ironia nella recitazione sudcoreana e tendono sempre a dire delle cose che poi sembra che non parlano mai seriamente, ma a prendersi poco sul serio. Però è semplicemente diverso dal nostro e diverso dalla recitazione occidentale al quale siamo abituati. Ditemi se anche voi la pensate così e vi do appuntamento alla prossima recensione. Ciao ciao!